ben ritrovati carissimi amici di GRP ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che io saluto buongiorno a tutti buongiorno a lei ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicine dello sport omeopata e studioso di medicine naturali dunque dottor Torchio con lei abbiamo già parlato del discorso della fraternità del calo della fraternità abbiamo anche fatto dedicato una puntata ai rimedi e alle cause sull'uomo io dedicherei questa puntata alla donna e quindi le chiederei innanzitutto quali sono i rimedi se serve una depurazione come vanno presi e lascio la parola a lei bene allora abbiamo detto che c'è stato un calo del 50 per cento che su ultimi 40 anni di fertilità abbiamo detto le cause l'inquinamento i cibi industriali lo stress ovviamente pesticidi di tutto di più ma soprattutto lo stress molto importante poi abbiamo parlato dei medi per l'uomo oggi dedichiamo una puntata giustamente alla donna allora mi hai chiesto prima se serve la depurazione allora la depurazione serve serve perché proprio per il fatto che ci sono queste grosse difficoltà riproduttive nella presenza dello smaltimento di tossine che sono farmaci e tutto ciò che è utilizzato anche nei cibi come additivi appetizzanti e via dicendo conservanti quindi la depurazione fondamentale la disintossicazione del corpo ha un costo energetico molto elevato che viene tolto alle altre risorse e la fertilità ovviamente necessita di molte risorse quindi la depurazione sicuramente è estremamente importante nella donna abbiamo alcune erbe in comune con l'uomo però vorrei prima soffermarmi sul fatto che la donna deve avere un ciclo regolare a questo può essere utile per esempio utilizzare l'inositolo il magnesio e l'acido folico l'inositolo che fa parte delle vitamine gruppo b è un qualcosa di molto utile perché regolarizza il ciclo e assieme all'acido folico migliora anche la dismenorea e la fertilità il magnesio poi è questo sale così importante che tutti dovremmo assumere nella giusta quantità per evitare di andare nella cosiddetta acidosi metabolica causata anche dall'attuale alimentazione squilibrata che è il terreno sul quale incominciano a manifestarsi tutte le varie patologie soprattutto quelle infiammatorie e l'omega 3 anche giusto? Ecco gli omega 3 ne abbiamo parlato molto a riguardo l'alimentazione sono i cosiddetti grassi buoni quelli cioè che allungano la vita hanno effetto antinfiammatorio proteggono il neurone hanno l'effetto di proteggere da infarti e via dicendo si trovano non solo nell'olio di pesce io da vegetariano consiglio invece piuttosto la frutta secca in guscio ma alcuni oli sono specifici per la fertilità e in particolare vi vorrei segnalare per la donna l'olio di enotera e l'olio di borragine assieme al comune olio di lino quindi l'olio di enotera e l'olio di borragine possono essere assieme all'olio di lino consumati in piccole quantità e cioè un cucchiaino di olio di lino mezzo cucchiaino di enotera e mezzo di borragine tutti i giorni come nutraceutica cioè come terapia diciamo alimentare per regolarizzare migliorare il ciclo della fertilità dunque uno può anche prendere tutti questi olietti ha per caso una ricetta da proporci veloce veloce di un olio quindi carico di omega 3? Allora l'olio per il mio consiglio magari poi diamo una ricetta di olio di spezzi in una puntata più specifica il mio consiglio è quello o di aggiungere questi oli eventualmente nell'insalata poi dobbiamo pulire bene la ciotola per non sprecarle o di prenderle direttamente durante il pasto ma possono essere mescolati all'olio di oliva ti ricordo ancora che il tempo stringe la damiana la damiana che è un'erba afrodisiaca per la donna l'anio casto che migliora molto il ciclo soprattutto se c'è una diminuzione della proletina del progesterone e poi il trifoglio che con la salvia e l'ortica contengono tutti quanti degli estrogeni naturali poi abbiamo ancora i germogli di alfalfa che sono molto ricchi possono essere assunti assieme all'insalata ti ricordo ancora le foglie di lampone di mora rossa un frutto tropicale che si chiama camu camu che è questo afrodisiaco e poi abbiamo la maca che viene utilizzata anche dall'uomo ma in particolare per la donna il don quai che è l'angelica l'angelica sinensis cioè l'angelica che arriva dalla cina dall'oriente che migliora regolarizza il ciclo migliora la fertilità anche se poi una volta che la ragazza che la persona rimane incinta dovrebbe sospenderla perché a lungo andare potrebbe aumentare troppo le contrazioni uterine quindi questo è l'elenco delle erbe che possono funzionare insieme a tutti gli accorgimenti di stile di vita che abbiamo dato grazie dottor Torchio dei suoi preziosissimi consigli io a casa vi ricordo che nel caso vi foste persi una puntata basta andare su youtube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio e un buon proseguimento grazie 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 color